buongiorno a tutti allora magliettina del gigione quarto video di nottata ma poi ne ho altri due da fare comunque magliettina del gigione con la frase che mi fa libidire spero che si veda e detto questo andiamo alle schienine del gigione per la prima giornata del campionato italiano stavo guardando le informazioni e mi è quasi venuto spontaneo a dire ma questo il fantacare il calciomercato l'hanno fatto perché molte squadre sono più o meno quelle dell'anno scorso uno due acquisti forse l'unica che ha fatto un po più di acquisti è la juve che ha rivoluzionato il centrocampo però ha rivoluzionato il centrocampo non è che ha sostituito dei buoni giocatori con degli altri buoni giocatori ma più o meno siamo lì bisognerà vedere turam come se la caverà locatelli è rimasto c'è douglas luiz da valutare nel nostro campionato chiesa non gioca più c'è il buon gilis promossa in prima squadra ma stavo guardando anche le altre squadre non è che ci sono sti enormi c'è il milan c'ha morata prima aveva girù adesso c'ha morata più o meno faranno gli stessi gol forse ne farà ne ha fatti molti di più girù e poi lo rimpiangeranno vedremo burata il nostro campionato lo conosce quindi però siamo lì e la differenza sarà 12 gol in più due gol in meno ma partiamo ragazzi miei partiamo con la sfida tra genoa e inter la quota mi obbliga a dire due la quota 1 e 50 del 2 mi obbliga a dire due ma io temo molto questa partita non dico che l'inter perde ma il rischio pareggio c'è però anche perché giocheremo sin dal primo minuto io francamente turam e lautaro li avrei lasciati in panchina partivo con la coppia taremi arnautovic e poi eventualmente buttavo dentro forze fresche nella ripresa anziché partire all'inizio con le due punte principali che non sono al cento per cento ma magari buttandole dentro l'ultima mezz'ora con l'altra squadra stanca che anche se il genoa sto vedendo è un po come si può dire con i giocatori contati soprattutto in difesa io partivo al contrario partivo con i due e poi dopo buttavo dentro i due più forti ecco per intenderci comunque formazione tipo dell'inter più o meno è quella della è quella dell'anno scorso con vise che al posto di pavardi in difesa a cervi e bastoni c'è d'armiana al posto di danfris solito ballottaggio centrocampo confermato con barella c'è la nogal mi chitaria di marco pronto a segnare i suoi gol da metà campo e attacco con turama e lautaro c'è minutaggio ritorno ridotto per lautaro ma vedrete che giocherà 60 65 minuti tutti conoscendo il toro a menalus il toro a menalus dovremmo stare attento al bomba di noschi sempre pericoloso per il resto anche il genoa è rimasto con la stessa squadra e ha perso una punta come reteghi è vero che l'anno scorso reteghi giocava un mese stava fuori due giocavo un mese stava fuori un mese giocava due mesi stava fuori un mese ha avuto un po di infortuni un po troppi quindi però vedere un attacco vitignia messias non dico nulla meglio non diciamo nulla ho parlato già troppo proseguiamo con parma fiorentina e qua metto un bel x2 empoli monza anche qui ragazzi miei stavo guardando le formazioni ma se è una che l'altra squadra allora lembe il monza è arrivato caprari non c'era già non mi sembra sia arrivato c'è di urici in attacco maldini che riaccopolo smi sembra sia arrivato non vorrei dire per il resto la difesa è sempre la stessa c'è il buon bondo c'è pessina centrocampo il l'empoli a vasquez in porta per il resto la squadra è la stessa c'ha un asse in più forse no forse c'era anche l'anno scorso c'è esposito in attacco esposito e colombo per una coppia giovane in attacco puntano sui giovani sui giovani e buon fazzini vedremo vedremo empoli monza è bella equilibrata bella tosta bella divertente mi arrisco un isfisso penso che possa andare bene anche a tutte e come prima giornata di campionato via rischio di sfisso ma una partita da tripla questa milan torino vedremo il buon morata con leao come si troverà il torino ha un adams in più uno zapata c'è lazaro c'è ilic mi sembra che sia il torino dell'anno scorso più o meno c'è un cocco in più voi voda c'era anche l'anno scorso c'è un basina forse in più c'è bellanova ricci linetti ilic lazaro c'è un adams in più è uno zapata che c'era anche l'anno scorso c'è un adams che gioca al posto del del buon sanabria quindi bilan favorito sulla carta dovrebbe essere un 1 però anche qui vale lo stesso discorso che facevo per genoa inter tra l'altro l'inter è più favorito più favorita di vincere rispetto al milan sul torino con il genoa che non il milan con il torino il che è tutto dire però credo che i cuginastri queste di rifo di raffa la porteranno a casa quindi dico uno se non dovesse succedere vabbè già iniziamo bene veniamo a bologna udinese anche qui bologna che ha perso qualche giocatorino stavo vedendo gioca con cambiaghi castro e fabian orsolini c'è sempre in difesa anno erlic miranda pos c'è sempre froiler c'è udinese mi sembra che sia la formazione dell'anno scorso con un brenner in più ecco forse c'è brenner in più dove luca pagero camara novric e zibue gianetti bigiole neo e perez nella squadra dello scorso anno con forse prendere in più quindi in ogni caso voglio dare fiducia al bologna e dico uno anche se non sarà una partita semplice verona napoli x2 non mi sento di mettere il due fisso al napoli verona è sempre stata una trasferta in cui o stravincevano o rischiavano anche di perdere quindi x2 cagliari roma is 22 a rischio 2 fisso ci potrebbe stare ma non bello a rischio lazio venezia credo uno perché non penso che la lazio si lascia sfuggire alla vittoria con in casa contro una neopromossa lecce atalanta x2 e juventus como dispiace per il como ma temo che la juve un 2 a 0 tranquillo non se lo lascerà sfuggire e vedremo anche questo douglas luiz cosa combinerà e compagni anche sono curioso di vedere il fratello di turam come si troverà nel nostro campionato centrocampo completamente rivoluzionato c'è solo locatelli che è rimasto poi per il resto tutti i nuovi nuovi tra virgolette per ea c'era anche l'anno scorso e in attacco gildiz blaovic vedremo raga soli niente andiamo a fare la schedina alternativa allora genoa inter temo goal 1 a 2 1 1 1 2 un punteggio così temo che il gollettino da pollastri lo prenderemo sicuramente parma fiorentina over 2 e mezzo vedo una partita bella divertente scoppiettante empoli monza gol milan torino ecco milan torino non vorrei che mi finisce 1 a 0 o 2 a 0 quindi over 2 e mezzo un po' rischioso il gol è altrettanto rischioso però forse forse gol gol perché magari zappatone la mette gollettino è poi bologna udinese over 2 e mezzo a 2 25 rischiamola va verona napoli over 2 e mezzo cagliari roma over 2 e mezzo lazio venezia over 2 e mezzo ragazzi miei non penso che la lazio si lasci sfuggire all'occasione di partire subito bene in casa davanti ai propri tifosi contro una neopromossa anche se gioca ben oslin casa cagli castellanos non è male però volevo vedere una una cosina perché avevo detto non sto seguendo il calcio del mercato e quindi stavo vedendo per la prima volta le formazioni e il buon ciro immobile non c'è più andato al besictas e quindi ragazzi miei questa lazio rivoluzionata con noslin zaccagni e castellanos questo trio così particolare boh non vedo male la lazio ragazzi miei anche se noslin è un bel giocatorino e ha fatto un bel affare a prenderlo se non erro dal verona però bisogna vedere quanti gol riuscirà a fare il cagliari non è che si è rinforzato più di tanto ha preso d'anca mamma mia in attacco ristagno pierini e ghi chier ragazzi miei questi mi sa che li vedo molto 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 male si credo proprio che la lazio potrebbe approfittare anche se non ha un attacco eccezionale veramente mi sa che due o tre gol vengono fuori proseguiamo con lecce atalanta e qui vi dico gol perché lecce il gollettino all'atalanta lo fa e l'atalanta ragazzi miei nonostante la sconfitta 2 a 0 in supercoppa contro il real madrid ma lì c'era poco da fare penso che un paio di gol al lecce riesca a farli e infine juventus como credo che un over 2 e mezzo ci stia tutto se la juve non riesce a fare più di due gol al como non so chi li possa fare e forse 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 al venezia con tutto il rispetto per il como che sta costruendo una bella squadra e ragazzi miei come io penso che farà un buon campionato leggevo qualche acquistino che hanno fatto e andiamo a vedere beh il cutrone una coppia d'attacco cutrone belotti non è da sottovalutare c'è una strefezza in mezzo al campo che può creare c'è il buon Bazzitelli non è non è una squadra è una squadra tutt'altro che scarsi e poi sono tornati è tornato cerri dall'Empoli quindi c'è gabrielloni e cerri può tentare c'è il buon verdi e non è male non è male non è male per niente vedremo vedremo certo contro la juve credono non ci dovrebbe essere gara teoricamente però nel calcio tutto può accadere raga soli vi ho detto la mia è la prima giornata quindi può succedere veramente di tutto io vi saluto vi ringrazio vedremo come andrà se sbaglio chiedersi qualcuno poi nei commenti del lunedì mi scrive Gigi ne sbagliate tutte capra eccetera mi prendo della capra e va bene che ci devo fare se sbaglio come dico sempre ho la pelata non ho la sfera magica avessi la sfera magica non ne sbaglierei neanche uno ma sono la pelata e quindi non li posso sapere risultati a priori detto questo ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao